Un messaggio importante per voi donne. La vaccinazione Covid è fondamentale in gravidanza, in allattamento e nelle donne che cercano un figlio. Fate un regalo a voi stesse e al vostro nascituro, perché il vaccino ormai è sicuro. Sono state vaccinate più di 100.000 donne in gravidanza negli Stati Uniti senza aver riportato aumento di rischio di aborti o di malformazioni sul nascituro. Contrarre il Covid in gravidanza è molto rischioso, perché è molto più aggressivo che nella donna non in gravidanza, per cui dovete vaccinarvi a più presto donne.